Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto a Montecitorio la Presidente dei Deputati della Polonia, Eva Kopasz, accompagnata dall'Ambasciatore polacco in Italia, Wojciech Ponichievski. Un incontro all'insegna della cordialità, che ha fatto da prologo all'inaugurazione nella Sala della Regina della mostra I Polacchi nel Risorgimento Italiano, curata da Cristina Javorska. La mostra, attraverso quadri a olio, incisioni, acquarelli, lettere e altre testimonianze d'epoca, celebra eventi storici che sopravvivono ancora oggi nella memoria collettiva, come testimoniano tra l'altro strade e piazze intitolate in tutta Italia agli esuri polacchi, che presero parte con la parola e l'azione ai moti guidati da Mazzini, alle imprese di Garibaldi e a quelle dell'esercito sardo. In Polonia, per esempio, si stanno preparando a commemorare Garibaldino Francesco Nullo, caduto nel 1863 combattendo contro gli invasori russi. Una vicinanza ideale che si ritrova nelle singolari citazioni reciproche presenti nel lino di Mameli e in quello polacco, che addirittura nacque nel 1797 in quella Reggio Emilia che poco tempo prima aveva visto la nascita del tricolore. E non mancano citazioni più recenti, come l'eroico sacrificio delle truppe polacche a Montecassino e la ventata anch'essa rivoluzionaria di Solidarnosc. Il titolo della rassegna, per la nostra e la vostra libertà, se è una frase nata a Varsavia nell'insurrezione del 1831, continua comunque a descrivere, per usare le parole del Presidente Fini, lo speciale rapporto tra due nazioni che credono negli stessi valori, ieri nella libertà e nell'indipendenza, oggi nella democrazia e nell'Europa unita. Grazie a tutti.